Voglio che tu capisca, so che hai voluto dire, per ora di più non riesco a fare, è un grosso passo per me. Lo so, è un'ottima offerta. Io sono un'ottima tutta. Un attimo, c'è una persona che vuole parlare con lei. Dice di chiamarsi Miss De Luca. Me la passi? Mi ci faccio parlare. Vivi, ciao bambina, vuoi venire giù tu? Il guardiano dei cessi non mi fa salire. Ok, arriva subito. Bene. Signor Thompson? Sì. Si rifiuta di scendere. Bel sabato, attenda prego. Sorvegliala. Sì, signora. 50 dollari, nonno, per se... Guardare. Ho provato tanto a chiamarti. Sì, lo so, mi hanno detto al banana che mi stavi cercando. Perché non sei passata martedì? Ti avevo lasciato in solito. Mi stavo nascondendo da casa. Ma se venivi a prenderti i soldi non dovevi nascondere. Avevo da fare, ho una vita, sai. Hanno pestato l'innoval, la trovarono in ospedale, hanno messo dentro Rachel, è tutto un gran casino. Ora i soldi li ho presi, grazie, mi hai salvato la peca. Lo smettere di rompere. Sai che mi parlava di te ieri notte? Mi scoppierebbe il tubo se ti vedesse ora così. Io avevo quasi paura di abbracciarti, non ti volevo sgolgire. Sei super fascinosa? No, ho qualche posto allunghi. Ti sei messa proprio in tiro. Certo non sei più intorno con Hollywood Boulevard, non lo sei mai stata. Oh, grazie. Ma è facile mettersi bene con i soldi. Già. Allora, lui quando parte? Domani. I vestiti puoi tenerli? Sì. Mi ha chiesto se volevo vederlo ancora. Ma io penso decisamente no. Insomma è stata una settimana come un'altra. Decisamente no. Già. Oh, no. Cosa? Vedo lacrime. Oh, che dì. Te ne sei innamorata. No, Kit, ti prego. Sulla bocca. L'ho fatta. Lo hai baciato? Sì, è stato carino. Te ne innamori e lo baci sulla bocca? Ma non ti ho insegnato niente. Senti, non sono stupido, ok? Io non sono innamorata. È solo che mi piace. Ti piace? Sì. Decisamente ti piace. Beh, non è brutto, è uno ricco di classe. Che mi spezz... No, no, dai, questo non lo sai. Lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai. Quando è che capita, Kit? Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria Lasecca o per Rachel? No. Ma quelli sono casi particolari, gente matta. Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo, la quale è andata... Vuoi un esempio? Vuoi che ti faccia un nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma? Sì, vorrei. Uno, me ne basta uno. Oddio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola. Signor Morse, ha detto stamattina?